Nuova clamorosa bufera sul mondo del calcio. Gli agenti della squadra mobile di Cremona hanno seguito oggi sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, nove agli arresti domiciliari con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode in competizioni sportive. In Romagna gli arresti sono stati effettuati a Rimini e Ravenna. Sono complessivamente 13 le città coinvolte. Tra le persone finite in manette ci sono ex giocatori di serie A, calciatori di serie B e Lega Pro, ancora in attività e dirigenti di società di Lega Pro. Su tutti spicca l'arresto di Beppe Signori, ex capitano della Lazio, ora ai domiciliari a Bologna. A Ravenna è stato arrestato il direttore sportivo del Ravenna Calcio, Giorgio Buffone. Per l'accusa gli indagati facevano parte di un'organizzazione che aveva come obiettivo quello di manipolare gli incontri. Secondo l'indagine i 16 sarebbero anche riusciti a condizionare alcuni match attraverso accordi verbali e impegni di carattere pecuniario. Tantissime le partite sotto esame della magistratura, sia in A sia nelle serie inferiori. L'attività dell'associazione che ha scommesso su alcune partite di calcio crea un terreno fertile per l'insinuazione ed elementi di una criminalità organizzata ai più alti livelli. Lo scrive il GIP Guido Salvini nell'ordinanza che ha portato agli arresti. Nella misura di custodia cautelare infatti si segnala la presenza tra gli investitori e scommettitori di alcuni gruppi dai contorni incerti, quale quello guidato da Almir Gercic, detto lo zingaro, slovacco, arrestato nell'operazione. Inoltre era presente anche un gruppo albanese. Il GIP spiega che sono investiti da questi gruppi per ogni partita truccata capitali dell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, di cui non è nota la provenienza. Dunque non si possono escludere fatti di riciclaggio.